Amiche e amici di Kenobi's Boss Productions, benvenuti a una nuova puntata di La Partitina. Io sono Andrea Babic, in regia c'è Fabio Kenobit Bortolotti e siamo pronti per stupirvi con il gioco che non vi aspettate, X-Riser, eh? X-Riser. Nella partitina ci piace alternare giochi superclassici e giochi totalmente sconosciuti. X-Riser è chiaramente un superclassico. No, X-Riser è chiaramente un gioco sconosciuto. Già l'Eco, Japan Leisure Company, una ditta che faceva giochi alcuni belli e alcuni brutti, qua si produce in questo spaziale abbastanza anomalo, che in realtà è il seguito di Exerion, che invece era un gioco abbastanza noto negli anni 80, X-Riser invece arriva ed è un po' destabilizzante, cita un gioco della seconda metà degli anni 80, quindi cita vecchi classici videogame, vedremo quali, e li reinventa con uno scenario, una grafica abbastanza strana. Due cose interessanti, una è che nel MAME il gioco non funziona correttamente, nel senso che il campo stellare non ha gli stessi colori che vedrete questa sera, perché noi giochiamo, e questa è la cosa 2 come sempre, da vero hardware, quindi dalla scheda della sala giochi di X-Riser, in questo caso Bootleg, un Bootleg anche fallato, che costringe ad attaccare due controller diversi allo stesso tempo per riuscire a giocare, ma insomma vi interessa relativamente, è solamente MENOSO, il concetto è scheda uguale MENOSO, scheda però anche vuol dire la vera esperienza di gioco, allora inseriamo il credito, cerchiamo di fare una partita decente, perché le partite scillano da disastro a capolavoro, vedremo subito cosa succederà, sono pronto a tutto perché questa è la partitina, grandi sorprese e grandi mostre, vediamo subito che avevano chiaramente giocato Space Hellyer, e si sono inventati questi dragoni, però di fatto il gioco sembra veramente una specie di GALAXIAN, perché è così difficile? Vabbè adesso ripartiamo con più slancio, dunque dicevo che una vita è meno, quindi partiamo subito in salitissima questa partitina, concentrazione, che è un po' un GALAXIAN, cioè Invasion, Phoenix, comunque multiquadro, avversari spaziali, però con un immaginario a tratti fantasy, con questi appunto dragoni che sono presi da Space Hellyer, e con la caratteristica di gameplay bella di Exerion, cioè del suo predecessore, c'è la possibilità di usare due spari, uno lentissimo e merdoso, che è questa specie di cometa che sparo, ne puoi sparare solo uno alla volta, finché il primo non ha colpito e non parte il secondo in sostanza, o finché il primo non è uscito dallo schermo, l'altro sparo è questo, super potente, a raffica, ma che è contato, è contato, quindi non si può abusare di questo sparo, appena finisce lo sparo e quando ti ritrovi solamente con la cometa, e loro ti tirano una granuola di colpi, guarda che attacco che ha fatto quello, fetente, ci si ritrova insomma senza lo sparo bello a succare malamente, io sto succando lo stesso anche avendo ancora a disposizione lo sparo bello, ma come vedete questa astronave, come in Reds, ma ben prima di Reds, ha la caratteristica di cambiare forma a seconda del grado di evoluzione che ha, più bullet buoni o in riserva, più l'astronave assume una forma fica, o almeno questa era l'intenzione dei programmatori, perché in realtà a me sembra il contrario, cioè più hai dei bullet in abbondanza, più l'astronave evolve, questa è la migliore, quella intermedia, ma vedrete se il dio dei videogiochi e dell'immensità mi darà la forza, che le astronavi, quando ho più proiettili di scorta, quelle più evolute fanno abbastanza schifo, ecco qua sono ancora nell'evoluzione di prima, questo astronave, no, perché è così difficile, perché è ingiusto, è hard but unfair, proprio quello che non vorreste, ma noi non abbiamo sconti nel mondo della partitina, c'è quello che c'è, come al bar sotto casa dove poteva esserci un gioco bellissimo, oppure X-Riser, che è un po' il gioco pesce della situazione, vediamo se ce la faccio almeno a sconfiggere questo, guarda, uso tutti i bullet che ho, tanto insomma è chiaro che la situazione è grottesca, tanto prima non ho anche commentato, che bello, sconfitto il boss, adesso c'è una specie di bonus stage in cui però muori, quindi un bonus stage, un corno, qui è molto importante essere pronti sempre con il bullet buono, perché se la cometa sbaglia, mira e non colpisce la cometa, cioè se lo sparo stella cometa e non colpisce i meteoriti, va tutto a ramengo, però mi tengo cauto, come vedete, sto cauto, sto causenante, oltre che sto cauto, non ho neanche vinto una vita, c'è una tristezza sta partita, mamma mia, speriamo di vincerla adesso, ok ho vinto almeno una vita, quindi sofferenza fino alla fine, perché l'estenuante lotta contro i mostri balenghi di X-Riser continuo ancora per un po', visto che ho vinto una vita, ovviamente le partite che ho fatto di prova prima di arrivare alla registrazione sono state molto migliori, e guardate il bonus, tutto questo calcolo è per dirmi 0, grazie, percentuale, 0, seguendo i punti ti do, 0, perché? Perché fai schifo, come X-Riser, guardate la bellezza di questo mostro con gli occhi iniettati di sangue, fa schifo veramente i cani, però insomma già leggo era così, grande libertà creativa, poteva andare bene o poteva venire fuori una porcheria schifosa, oh chignettati di morte, oh morite tutti, oh benissimo, sono anche riuscito a non morire, lo dico e non muoio, e guardate che bella questa evoluzione con questa stornave che sembra veramente una stornave da hard discount, come dire, cioè tutta grossa senza dettaglio e adesso di nuovo hard discount, vabbè, detta hard discount, all'epoca non esistevano gli hard discount, per farvi notare questa cosa, non mi ricordo sinceramente se questo gioco è dell'86 o dell'87, spero per loro che almeno sia dell'86, perché è veramente il male, qui è veramente Galaxia praticamente, cioè Galaxian o Galaga, che dir si voglia, però forse meno divertente, è estenuante, però anche l'estenuanza, semmai esiste il termine estenuanza, ha una sua pregianza nel mondo delle, uh, guardate come si sposta questo drago fetenji, il drago fetenji paga pegno, guardate, mi sono ripreso, ho cominciato malissimo, invece adesso guarda, tutto sommato non sto neanche facendo schifo, e adesso che ho detto questa cosa, ciaone proprio, però dirai l'istante, e la legge, l'autogufaggio non paga mai, quindi comunque stage 9 secondo me è uno stage bellissimo per morire, ve lo dico, lo annuncio, forse la strategia è inversa, quindi annuncio che morirò e quindi ce la farò, potrei aver scoperto il segreto, il segreto dei videogiochi signori, l'autogufaggio inverted, inversed, reverse guffaggio, cioè dire che ci si porta sfiga, understateare, per poi in realtà trionfare gloriosamente, e guardate qua quanti meteoriti sto facendo fuori, ehi, te ho visto a te, dai fammi evolvere, almeno in un'astronave a tre razzi, sti cazzi tre razzi, vediamo qua quella schizza, questa tra l'altro è una citazione di uno stage di Moncrest, cioè sembra veramente che a metà anni 80 un certo filone di designer avessero deciso, va bene, ricominciamo da capo, rifacciamo le stesse cose che hanno fatto a inizio anni 80 i grandi, però un po' peggio, vediamo questo, 17 mila punti, hai visto, perché, boh, e l'altra partita comunque si è rivelata abbastanza buona, mi do un riavviamento ai capelli, mentre questo nemico voleva riavviarmi il culo, invece li ho riavviato io, ecco qua la nostra amica Valkyria che si piglia una piria dritta in faccia, per dire così, perché se avete notato in uno stage in particolare, nel secondo stage, c'è questa bizzarria di queste sacerdotesse volanti che praticamente aprono le gambe e accolgono lo sparo fallico dell'astronave di X-Riser tra le loro puntogambe, le vedrete adesso probabilmente, stanno arrivando le sacerdotesse, con non si capisce se c'è una specie di tensione politica a carattere maschilismo versus femminismo, oppure programmatori frustrati che si vendicavano di ex fidanzate colpendo le brutte, con 0 0 0, se avete notato il bonus che ho ricevuto, 0 0 0 0, il X-Riser è tutto matto, tutto matto, è un altro drago, qui avete capito che comunque il gioco è già finito praticamente, si ripete all'infinito, solo il più cattivo è, io ormai ho quasi finito i miei sparetti, i miei poveri sparetti sono finiti, ormai c'è veramente uno sparo da ciula in entrambi i casi, sia lo sparo contato che lo sparo infinito, sono da ciula, è come un ciula giustamente, contro un drago stellare, muoro, muoro ma con la gioia di averli fatto conoscere X-Riser, direi che la classifica parla chiaro, mi firmerò in questo caso abbastanza in edit, forse è la prima volta che lo faccio, ma potrebbe essere bello come nome, BSB, quanto Beastwatch, mi sono sempre firmato and quando ero piccolo, ma bzzb non è male. Signori, guardate chi c'è, cosa devi dirci amico? Alla prossima partitina, quindi circa tra una settimana. Ciao amici e amiche! Ciao ciao!